capitolo 35 il più bel bacio della buona notte di tutti i tempi più tardi raccontai ad annabeth tutta la storia dopo cena tornò al suo dormitorio ma una volta finiti i compiti mi distesi sul letto accesi il mio macchinario improvvisato per i messaggi iride e lanciai una dracma nell'arcobaleno temevo che il caduceo di iride e mercedes entrasse volando dalla finestra e mi desse una botta in testa per aver usato un'altra forma di messaggistica ma per fortuna non accadde ehi fece annabeth brillava nella luce dell'arcobaleno con la testa appoggiata su una mano un libro di matematica aperto davanti a lei sul letto una roba per me astrosa il suo sorriso era il perfetto antidoto per la mia lunga assurda giornata certo aveva sorriso a cena e riso di me parecchio ma questo era un sorriso più caldo più intimo mi piaceva pensare che fosse solo per me volevo raccontarti dell'olimpo esordì fu felicissima di sapere che barbara le avesse chiesto un selfie e un autografo come no volentieri rimasi un po sorpreso da quanto non sembrasse sorpresa forse riceveva di continuo richieste come quella e semplicemente non ne parlava a proposito grazie per avermi prestato il berretto degli yankees continuai non mi avevi mai detto che ti dà prurito quando lo metti alzò una spalla ogni potere ha un prezzo anche essere invisibili mia madre me l'ha insegnato tanto tempo fa lo disse in tono malinconico forse un po triste ma non risentito a quanto pareva aveva accettato come funzionava il mondo secondo atena anche se non sempre era d'accordo con lei anche se a volte non aveva più senso di quanto ne avessero i suoi compiti di matematica per me a proposito di tua madre le raccontai quello che era accaduto al branch quando atena aveva incrociato il mio sguardo sotto il tavolo era difficile decifrare l'espressione di annabeth i messaggi iride sono sempre un po nebulosi ma sembrava che stesse cercando di rimettere insieme le mie parole per ricavarne una storia coerente wow disse infine e già ti ha aiutato direi di sì in ogni caso non mi ha ucciso sai cosa significa allungò una mano verso di me toccando il messaggio iride le sue dita si dissolsero in acqua e luce però io mi protesi comunque nella sua direzione quando l'immagine si formò sembrava che le nostre mani si fossero fuse unendosi lungo le linee della vita annabeth sorrise di nuovo mia madre ha capito è strano che non lo abbia fatto prima visto che di solito è sempre molto più avanti di tutti gli altri ma questo non è un campo di battaglia immagino scusa ha capito cosa rise quanto faccio sul serio con te testa d'alghe mi si strinse il petto però non era una sensazione spiacevole era più come un comodo maglione di lana che mi avvolgeva pensi che mi abbia aiutato per amor tuo dicendolo mi resi conto che la cosa aveva molto senso almeno molto più senso di atena che mi aiutava per qualsiasi altro motivo sa che andrò fino in fondo rispose annabeth farò di tutto perché entrambi possiamo diventare adulti e avere l'occasione di sistemarci spero dopo esserci divertiti un sacco all'università mi hai convinto a divertiti un sacco scherzai anzi mi hai convinto in tutto e per tutto le raccontai quello a cui avevo pensato mentre lottavo contro geras come avevo deciso di abbracciare e fare pace con la vecchiaia perché qualsiasi futuro dove noi eravamo insieme era un futuro che volevo vivere santi nomi annabeth si asciugò una lacrima a volte sai essere dolcissimo solo a volte rimaniamo concentrati ok devi procurarti ancora due lettere di presentazione prima delle vacanze invernali il che significa altre due imprese per conto degli dei che bella noia vorrei dire gioia no no sento già che sarà una noia però ce la faremo giusto insomma se perfino tua madre è dalla nostra su questo punto non insisterei troppo ma è un buon segno comunque sì ce la faremo ehi persi sì detesto dirtelo però mi sa che ti amo ah che schifo lo temevo ti amo anch'io finisci i compiti buonanotte buonanotte sapientona e come facevamo sempre ci rotolammo l'uno verso l'altra interrompendo il messaggio iride nel punto in cui ci incontravamo ma nella foschia e nelle ultime macchioline di luce mi sembrò di sentire il profumo della sua presenza di percepire il calore del suo abbraccio sarò sincero bastò a farmi credere che tutto era possibile tranne i compiti di scuola mi addormentai quasi subito e una volta tanto feci